A partire dal 19 fino al 23 agosto, 101 nazioni gareggeranno sulle acque dell'Idroscalo per assegnare titoli mondiali, ma anche per qualificarsi per le Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. I numeri sono imponenti e tutto Idroscalo è pronto per accogliere i migliori atleti del mondo e l'alto numero di spettatori per 5 giornate di grandi competizioni e sfide in velocità. Pulizia messa in ordine del bacino e sicurezza sono al centro dell'attenzione. Data l'importanza dell'evento e per questioni di sicurezza, Idroscalo ha deciso di riservare e transennare l'area sportiva per tutta la durata della manifestazione. Dal 16 al 23 agosto non sarà quindi possibile percorrere l'intero anello, vietate nei giorni di gara anche la balneazione, la navigazione, la pesca e il teleschi. E nel frattempo, i curiosi che non resistono all'attesa potranno provare a scorgere gli atleti che iniziano ad arrivare per allenarsi e per testare il campo di gara. Grande attesa per i campionati mondiali di Canoa, come si sta preparando Idroscalo? Adesso siamo tutti in fervore per questo evento mondiale e ci stiamo cercando di organizzare per accogliere tutta l'utenza che arriverà in più oltre a quella normale che già in Idroscalo c'è. Le piscine, le spiagge che ci sono si stanno preparando per nuove attrezzature, stiamo ampliando il bacino dei lettini, le utenze che ci sono saranno migliorate sotto alcuni servizi. Per quanto riguarda il discorso che in questi giorni mondiali il bacino sarà chiuso, tutte le attività di benazione saranno chiuse, abbiamo rinforzato il servizio delle piscine, le spiagge saranno comunque operative, quindi si potrà venire a prendere il sole con le docce, i nebulizzatori che abbiamo installato nuovi, quindi sarà comunque una tre giorni da poter vivere all'aria aperta nel fantastico scenario di Idroscalo. Altra cosa che si potrà fare durante le gare, durante i giorni di preparazione o comunque anche dell'allenamento dei vari nazionali sarà il fatto di poter affittare le bici in tre punti all'interno di Idroscalo, quindi fare comunque il giro di Idroscalo in bicicletta o a piedi anche se alcune parti sono interdette, comunque si potrà fare di noleggio bici per bambini, famiglie e tutto, in modo da poter andare a vedere anche il campo gare da una parte e la tribuna dall'altra, quindi avere una panoramica generale di tutto il parco. Da moltissimi anni faccio l'apertura dei cancelli al mattino, entro le 7.10 tutto aperto, l'utenza è molto molto contenta e poi mi preparo, mi organizzo per i miei fiori, le miei aiuole, è un massacro perché non ci sto dietro io da sola. Questo è il periodo peggiore per un evento così importantissimo, è un massacro per noi perché non riusciamo a stare dietro a nulla. Allora siamo rimasti quattro gatti e di conseguenza si fa quel che si può, a volte senza respiro, soltanto con l'anima e proprio con la cultura che noi abbiamo qua dentro, di mantenere sempre il parco come si deve. Desidero sottolineare l'attenzione da parte della provincia di Milano perché nonostante il passaggio tra città metropolitana, provincia di Milano, sia provincia di Milano con i suoi dirigenti e tecnici, sia città metropolitana, sia regione Lombardia ci sono stati vicini nell'approssimarsi dell'evento e ci stiamo presentando proprio col vestito buono. L'idroscale è una piscina lunga, 2400 metri, la sua massima larghezza è 400, la sua massima profondità va tra i 4 e i 5 metri e mezzo, ma c'è una cosa che rispetto agli altri campi di gara lo distingue per eccellenza, il vento. Quando c'è vento o viene da nord o viene da sud ed è uguale per tutte e nove le corsie. Cosa voglio dire? Che un atleta va in gara con la serenità che è nelle stesse identiche condizioni degli avversari. Il nostro obiettivo è quello di portare in finale quattro imbarcazioni tra tutte le distanze e tutte le categorie. Non è un obiettivo semplice perché per le Olimpiadi si qualificano solamente le prime sei imbarcazioni. Tenendo conto che in ogni gara non ci saranno meno di 45-50 paesi, invece nel K1, nel singolo ce ne sono addirittura 90-95, è una sfida molto dura, difficile, ma che anche questa affrontiamo con il rispetto di tutti ma senza paura di nessuno.